Il problema è il camice, giusto? Perché in jeans il mio sedere è una forza da prendere in seria considerazione Ehi, ti stavamo cercando Nick, toccami il sedere per favore Tutto bene? Quel bambino è destinato a morire Forse oggi, forse domani O fra un mese Non c'è niente che possa fare, non funziona niente E ora i suoi vogliono parlare con me, cosa dovrei dirgli? Peter ha vissuto sette lunghi anni Sette anni, capito? Non è giusto Odio questo posto, odio questo lavoro Nick, non è cosa tua Non posso più farlo Ho chiuso, ho chiuso, chiuso La cosa inquietante è che pensavo fosse il più forte di noi Ma forse quel che conta non è essere il migliore Forse si tratta di apprezzare quelle piccole cose che ti fanno andare avanti Di apprezzare l'appoggio di chi ti è vicino Di accettare la sensazione di oppressione Anche solo per un momento O di sentirsi altruista ogni tanto Non lo so Credo che alla fine si tratti di sopravvivere In un modo o nell'altro A domani Sei stupido Tutto qui? Dammi tempo Ti divorerò Sono stupido? Sì, un pochino Sì, un pochino Sì, un pochino Sì, un pochino Sì, un pochino